Musica Peschereccio di Reggio Calabria imbottito di cocaina 5 tonnellate e bloccato in Sicilia. Scoperti 38 BNB a Tropea nel Vibonese abusivi. La regione approva le linee guida dal dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2024-2025. A Lorica nel Cosentino la 17esima edizione del premio Oscar Green, il premio per i giovani innovatori in agricoltura. Ben ritrovati con l'informazione di Calabria TV. Peschereccio di Reggio Calabria imbottito di cocaina 5 tonnellate e bloccato in Sicilia. Il comandante di Bagnara Calabria è il sequestro di cocaina più grande mai eseguito in Italia. Maxi sequestro di cocaina in Sicilia è il più importante mai eseguito in tutta Italia. A bordo di un peschereccio infatti sono state sequestrate oltre 5 tonnellate di cocaina. La droga destinata al mercato italiano avrebbe fruttato oltre 850 milioni di euro. Fermate 5 persone dell'equipaggio, un italiano, due tonisini, un francese e un albanese che sono state fermate dalla DDA di Palermo. Erano tutte a bordo del peschereccio Ferdinando d'Aragona del compartimento marittimo di Reggio Calabria. L'italiano fermato è Vincenzo Catalano, 35 anni, di Bagnara Calabria in provincia di Reggio Calabria, comandante della moto peschereccio. L'operazione è stata condotta dal Comando Provinciale di Palermo della Guardia di Finanza con numerosi mezzi aerei e navali del Comando Operativo Aeronavale di Pratica di Mare e del Reparto Operativo Aeronavale di Palermo. Martedì sera, su comando del secondo reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, in servizio di ricognizione nel canale di Sicilia, impiegato da alcuni giorni nel monitoraggio di una nave mercantile, ha rilevato l'avvicinamento al cargo battente e battiera della Repubblica di Palù delle Isole del Pacifico, di un peschereccio partito dalle coste calabrese. E' stato quindi predisposto un dispositivo di polizia con l'impiego di ulteriori mezzi aerei e navali in forza al gruppo Aeronavale di Messina, al gruppo Esplorazione Aeronavale di Palermo e al reparto operativo Aeronavale di Palermo. Durante la notte è stato accertato che la nave madre stazionava ai limiti delle acque territoriali, dove aspettava il peschereccio, verosibilmente per un trasbordo illecito. Ieri poi la registrazione delle anomale operazioni di accumulo di numerosi pacchi sul ponte della nave madre, che poi sono stati scaricati in mare, mentre si avvicinava il peschereccio italiano. Nel frattempo aveva disattivato il sistema di localizzazione AIS per recuperare il carico gettato in mare. Subito entrati in azione, i finanziari hanno bloccato il peschereccio, che stava facendo rientro verso le acque territoriali, a bordo del quale, occultato dietro una pannellatura che celava un ampio locale, è stato scoperto l'enorme quantitativo di stupefacente. Le unità navali del corpo hanno inseguito la nave mercantile, che nel frattempo stava cercando, senza successo, di riprendere il largo in direzione della Turchia. Il peschereccio è stato scortato al porto di Porto Empedocle, mentre la nave madre, con l'equivaggio composto da 15 persone, è stata scortata dai mezzi navali verso il porto di Palermo. La Guardia di Finanza ha scoperto 38 biembi irregolari a Tropea, con la collaborazione della Polizia Locale della nota località turistica calabrese, nell'ambito del contrasto all'evasione e all'abusivismo nel settore turistico ricettivo. Internet e il mondo dell'online sono una grandissima opportunità, sia per chi deve vendere, sia per chi deve acquistare. Ma come in ogni tipo di transazione, esistono possibilità di truffa, che non sempre sono a danno del cliente, ma senz'altro a danno dell'erario e dello Stato, come ad esempio i 38 bed and breakfast completamente abusivi che le fiamme gialle della tenenza di Tropea, nell'ambito di un'attività svolta al contrasto dell'evasione e all'abusivismo nel settore turistico e ricettivo, hanno scovato nella perla del tirreno. Queste strutture, pur essendo sistematicamente pubblicizzate sui siti internet specializzate, sono risultate non in regola con il fisco perché non avevano mai dato corso alla denuncia di inizio attività presso gli uffici comunali, omettendo di conseguenza il pagamento dei tributi locali come l'IMU, l'Atari e l'imposta di soggiorno. I finanzieri hanno potuto individuarli grazie ad un'attività di analisi incrociando i dati presenti nelle banche dati del corpo con le informazioni rilevate sui siti internet e sui social network, acquisendo informazioni sul numero delle stanze, i prezzi praticati, le recensioni e i feedback ricevuti dai clienti. Notizie confermate da appostamenti mirati che hanno avvalorato l'esercizio abusivo dell'attività recettiva. Ai titolari di queste strutture abusive sono state contestate sanzioni amministrative fino a 38.000 euro per l'esercizio dell'attività recettiva in assenza delle prescritte autorizzazioni. Ennesima vittima della strada ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro un palo. Tragedia a Castrovillari sul rettilineo di via del Cerviero, a pochi passi dal tribunale. Giuseppe Pugliese di soli 16 anni era a bordo della sua moto, una Yamaha, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo della pubblica illuminazione. Le sue condizioni sono apparse subito disperate al punto da rendere necessario l'intervento dell'elisoccorso che lo ha trasportato presso l'ospedale annunziata di Cosenza, ma i tentativi di rianimarlo sono stati purtroppo vani. Sequestrati all'aeroporto internazionale di La Mezzia Terme, orologi e borse contraffatti, trasportati nel bagaglio di un viaggiatore proveniente da New York e in transito da Roma, sono stati sequestrati quattro orologi e cinque borse contraffatti. Al transgressore è stata applicata l'ammenda prevista dal nuovo trattamento sanzonatorio applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di merci che violano diritti di proprietà intellettuale. Le perizie condotte sugli orologi che riproducevano dei prestigiosi marchi hanno evidenziato il tentativo di spacciarli per prodotti originali con un valore commerciale che si aggirerebbe intorno ai 25 mila euro. Anche le borse griffate, nonostante il tentativo di renderle molto simili alle originali per caratteristica, struttura, veste grafica, dimensione dei marchi a seguito di perizia, si sono in realtà rivelate contraffatte. Lega Ambiente con Goletta Verde hanno fatto un blitz nello stretto di Messina diffondendo un dossier per dire no al ponte sullo stretto. Blitz di Goletta Verde di Lega Ambiente nello stretto di Messina nel tratto di mare che collega la Sicilia e la Calabria per dire no al ponte sullo stretto. L'associazione ambientalista con uno striscione di 6 metri con scritto no ponte esposto via terra su una spiaggia di Messina e con la sua storica imbarcazione di azione via mare lungo lo stretto ha espresso la sua contrarietà per quella che ha definito un'opera faraonica utile solo a sperperare altri soldi pubblici. Un'opera che per Lega Ambiente ha distolto l'attenzione dalle vere priorità su cui in realtà si dovrebbe lavorare in primis migliorare il trasporto su ferro per collegare meglio le due regioni con il resto della penisola migliorare quello via nave con l'acquisto di traghetti RORO ovvero Rolon ROROF e convertire le rotte attuali in traghetti elettrici. Dunque rendere più efficienti i servizi coordinando l'offerta dei diversi servizi per semplificare gli spostamenti e gli scambi tra treni, autobus locali e regionali. traghetti, integrare tariffe e biglietti dei vari gestori migliorando l'offerta di viaggio per i pendolari con costi minimi per le casse pubbliche. E' durata 24 ore la fuga di Francesco Sapone il 42enne che nella lotte tra mercoledì e giovedì a Reggio Calabria avrebbe investito con la sua auto due persone uccidendo un ragazzo di 27 anni di nazionalità marocchina. La tragedia si è consumata nel piazzale della stazione di servizio Kuwait sulla statale 106. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si nascondeva a Motta San Giovanni nei pressi dell'abitazione del suocero. La polizia aveva trovato la sua auto utilizzata per investire la vittima e un altro cittadino italiano che è rimasto ferito. Il 42enne è stato sorpreso da una pattuglia delle volanti mentre si trovava per strada intento a bere ad una fontanella pubblica. Si è conclusa un'attività ispettiva per la depurazione presso l'area industriale di Lamezia Terme Exesir da parte dei carabinieri della Compagnia di Lamezia, il personale del Dipartimento Ambiente della Regione e i tecnici dell'Arpacal. I carabinieri e Arpacal hanno eseguito dei controlli a depuratori. Si è infatti conclusa un'attività ispettiva presso l'area industriale di Lamezia Terme Exesir che ha visto operare sul campo sia i carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme che il personale del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria. L'attività è consistita nell'esecuzione di controlli sia analitici che documentali su alcuni siti presenti sull'area e in particolare sul depuratore di reflui urbani di Lamezia Terme nel quale giungono i reflui di depurazione provenienti da quasi tutte le attività produttive di tipo industriale della zona. Per accertare l'effettiva funzionalità dei processi di depurazione e scongiurare quindi la possibile emissione nelle acque marine di sostanze inquinanti i tecnici hanno effettuato dei prelievi necessari per controllare la conformità dei parametri relativi alle acque in uscita e a quelle in entrata per verificare l'eventuale emissione nel processo di depurazione di sostanze che poi possano interferire con la funzionalità dell'impianto. L'attenzione dei tecnici dell'arma dei carabinieri si è concentrata sul canalone che scorre a fianco dell'insediamento industriale le cui acque giungono direttamente in mare nel quale sono stati effettuati dei prelievi in vari punti allo scopo di verificare la presenza di inquinanti ambientali che, se presenti, potrebbero essere la causa di molte delle problematiche che si registrano specialmente in estate sulla costa Lamettina. Le analisi verranno poi eseguite dai laboratori bio-naturalistico e chimico del Dipartimento Arpacale di Catanzaro. Cambiamo decisamente argomento. La Giunta regionale della Calabria ha approvato le linee guida per il dimensionamento della rete scolastica calabrese per il triennio che inizierà nel 2024-2025. Grazie al lavoro svolto dall'assessore Giussi Princi la Calabria manterrà le autonomie soprattutto nei comuni che ne hanno più bisogno. Le abbiamo appena approvato devo fare un grande ringraziamento alla vicepresidente Princi perché siamo riusciti ad ottenere un risultato straordinario. Molte regioni siano lamentate del fatto che la normativa nazionale ponesse alcune regioni soprattutto quelle del sud nella condizione di ridurre il numero di autonomie. Grazie al lavoro svolto alla vicepresidente Princi la Calabria avrà addirittura più autonomie che in passato perché leggendo bene il testo abbiamo individuato lo ha fatto l'assessore Princi delle modalità che consentano di mantenere le autonomie soprattutto nei comuni che ne hanno più bisogno. Abbiamo fatto in giunta l'esempio di comuni come San Luca, Platì dove c'è necessità di un grande investimento nella formazione scolastica perché è un investimento nella formazione delle coscienze. È la dimostrazione del fatto che quando le regioni lavorano in leale collaborazione col governo e soprattutto quando le regioni hanno assessori così bravi come la vicepresidente Princi i problemi si risolvono con grande beneficio per i cittadini anche nell'ambito della scuola. Intanto c'è da puntualizzare che l'ultimo dimensionamento scolastico della Calabria risale al 2012 quindi è stata una concertazione importante che noi abbiamo già attivato nei messi precedenti con il mondo sindacale con l'USR per cui il documento ha trovato l'avallo di tutte quante le componenti è stato elaborato con il Dipartimento Istruzione e Formazione che ringrazio e va, come diceva il Presidente ad abbattere quelli che sono i vincoli dimensionali che sappiamo quest'anno dopo il periodo della proroga legata al Covid erano di 600 e 400 noi invece con il numero delle autonomie che ci sono state assegnate a livello nazionale che sono 281 e quindi 79 in meno rispetto diciamo l'attuale situazione però abbattendo i vincoli dimensionali a salvaguardia delle aree in terra soprattutto abbiamo disciplinato che è possibile nelle aree altamente diciamo popolate o nei comuni superiore ai 15.000 abitanti di attivare delle autonomie con una popolazione scolastica anche superiore alle 1.000 unità lasciando le aree interne scarsamente popolate con una popolazione scolastica di 600 o anche inferiore quindi delle autonomie che in quei centri isolati è possibile mantenere anche con 200-300 unità senza alcun vicolo dimensionale ma con esigenze legate alla salvaguardia dei contesti perché dobbiamo anche contemperare quello che è l'andamento demografico della popolazione nel prossimo triennio e quindi vogliamo salvaguardare quelle realtà interne che rischierebbero lo scopolamento e quindi è stata un'operazione strategica perché vogliamo andare a ridurre i divari territoriali nella nostra regione la dispersione scolastica vogliamo che venga abbattuta compresa la povertà educativa in tal senso che cosa prevedono le linee guida che si intervenga anche sull'offerta formativa che venga altamente calibrata a quelle che sono le vocazioni dei territori quindi con possibilità che noi daremo con il nuovo documento di costituire dei poli liceali dei poli tecnici professionali dei poli educativi prevedendo anche i servizi dell'infanzia perché sappiamo la situazione anche in tal senso come critica e allora attraverso questa opportunità di seguire le potenzialità dei territori noi andremo a curvare gli indirizzi a quella che è appunto il potenziale l'esigenza appunto degli stessi territori c'è tanto da fare ma siamo sulla buona strada e quanto afferma il sindaco di Bagnara Cala Bradone Pistolesi sentito da Graziano Tomarchio sindaco stagione 2023 ecco Bagnara possiamo dire che è una città a vocazione turistica allora a vocazione sicuramente è stato sempre a vocazione turistica naturalmente questo paese deve recuperare le posizioni che negli ultimi decenni ha perso purtroppo per varie problematiche e quindi si parla di turismo quando si è in grado poi alla fine di poter garantire i servizi primari abbiamo strutture abbiamo la ristorazione abbiamo la ricettività di molte B&B dei nostri alberghi sicuramente deve ancora crescere questo mondo intorno alla ricettività nel nostro paese però siamo sulla buona strada c'è tanto da fare lo ripeto sempre dobbiamo migliorare nell'offerta per poter essere al pari di altre realtà che sicuramente hanno fatto tanto e prima di noi e il ruolo della politica qual è in questo? la politica è sicuramente essere credibile essere trasparente comunicare le cose fatte parlare della programmazione futura ma naturalmente essere il faro per poter dire che la cittadinanza si deve fidare deve tornarsi a fidare della politica dove il primo presupposto per poter essere credibile è che la politica non deve avere alcun conflitto di interesse di alcun tipo perché se si mischiano i livelli della cosa pubblica dalle cose private naturalmente la politica non può tornare ad avere quella credibilità che gli appartiene però la sinergia tra politica e imprenditori assolutamente sì sui livelli dove l'ente la politica deve rappresentare l'interesse di una comunità all'interno della quale devono poter essere rappresentati al meglio tutti quelli che sono gli aspetti economici commerciali naturalmente con livelli separati quindi vedere insieme quali sono i passi per migliorare ma nell'interesse della comunità che non sempre poi si sposa con quelli esclusivamente delle attività commerciali insomma bisogna concedere il tutto Sindaco parliamo di mare il lancio di qualche giorno fa del Presidente della Regione chiedo a voi Sindaci depurazione e quant'altro oggi la salute lo stato di salute del mare Bagnara com'è? allora io proprio l'altro giorno ho fatto un sopralluogo senza preavviso nel nostro impianto di depurazione che è qui in località Cacilì di Marianella l'ho voluto fare esclusivamente per il motivo di tranquillizzare la mia comunità e che ha potuto vedere in tutte le fasi di lavorazione di un impianto di depurazione che purtroppo però è di prima generazione a più di 40 anni e sicuramente in prospettiva ci sarà bisogno di fare un'opera strutturale infrastrutturale nuova di nuova generazione che possa garantire ancora di più però sicuramente fino all'altro giorno l'hanno visto tutti l'impianto è funzionante e dalle acque che venivano depurate e che poi vanno a finire nel canale esterno diciamo sottomarino posso garantire che l'impianto sta funzionando a Lorica nel Cosentino presso brillo parlante sul lago Arvo premio Oscar Green giunto alla 17esima edizione per giovani imprenditori agricoli under 40 provenienti da tutta la regione che hanno presentato le realizzazioni dei propri lavori delle imprese nel settore agricolo e agroalimentare una veduta a mozzafiato il lago di Arvo ha fatto da sfondo al brillo parlante di Lorica nel Cosentino per l'appuntamento col premio Oscar Green la finale regionale che si è tenuta nel Cosentino per dare spazio a giovani imprenditori under 40 che hanno presentato le realizzazioni del proprio lavoro del proprio impegno nel settore agricolo e agroalimentare giovani imprenditori che sono distinti per innovazione hanno contribuito a rendere sempre più dinamico il comparto agricolo calabrese Oscar Green è il premio promosso da col diretti giovani imprese arrivato alla 17esima edizione che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l'agricoltura e l'agroalimentare in tutto sé le categorie in concorso campagna amica fare filiera impresa digitale coltiviamo la solidarietà custodi d'Italia energie per il futuro e sostenibilità i progetti imprenditoriali che sono stati presentati per le varie categorie in concorso alla finale regionale sono stati in tutto 42 e veniamo ai vincitori per la categoria energie per il futuro sostenibilità è stata premiata Francesca Geraci di Corigliano Rossano ha realizzato un prodotto innovativo che consiste in uno scrub face body per la cura della pelle totalmente naturale per la categoria campagna amica il vincitore è Marco Furchi di Tropea il suo progetto Ognun Experience è un tour esperienziale tra i campi aziendali con l'intento di far vivere ai visitatori una full immersion nel mondo agricolo per il segmento coltiviamo la solidarietà riconoscimento all'iniziativa cucina sociale contadina che è nato dalla sinergia della cooperativa sociale volando oltre con col diretti cosenza e agri mercato coperto campagna amica per la categoria impresa digitale sono stati premiati Domenico e Fortunato Falcone che a Reggio Calabria conducono la società agricola Cladì la categoria custodia Italia ha visto il premio assegnato alla società agricola tenuta del dotato di Santa Maria del Cedro mentre la categoria affari rete ha visto l'affermazione della società cooperativa Aliva di Bovalino in provincia di Reggio Calabria una menzione speciale per custodia Italia è andata all'azienda agricola di Giuseppe Talarico di Serra Stretta in provincia di Catanzaro è stata una giornata entusiasmante ha detto Franco Aceto Presidente dei Coldiretti Calabria di approntare strategie per incoraggiare l'imprenditoria giovanile e tutelare la produzione nazionale di nuovi attacchi che la minaccia come nel caso del cibo sintetico sui costi delle tensioni internazionali dei cambiamenti climatici sta dando grosse preoccupazioni ma veniamo alla giovane vincitrice per quanto riguarda Francesca Geraci che tra l'altro è stata menzionata per il concorso nazionale a lei chiediamo com'è nata l'iniziativa allora noi ci siamo appoggiati a quella che è una start up dell'Università della Calabria che è Macrofarm quindi abbiamo fatto anche un'innovazione di tipo aperto io poi studio proprio lì studio proprio questo quindi termina qui la nostra informazione grazie per essere stati con noi ora le notizie dell'Italia e del mondo e le previsioni meteo Patrick Zacchi partirà domani dal Cairo diretto a Milano Malpensa con un aereo di linea di una compagnia egiziana il ricercatore ha rifiutato il volo speciale che era stato messo a disposizione del governo italiano e non intenderebbe incontrare né farsi assistere da autorità dell'esecutivo di Roma la reputazione dei difensori dei diritti umani si basa sulla loro indipendenza dai governi sottolinea Amnesty International decidere di viaggiare su un volo di linea non è un gesto di opposizione politica ma un gesto di indipendenza la sensazione migliore è la libertà domani mattina a Bologna per coronare il sogno tanto atteso ha scritto oggi Zacchi in un tweet sono due le persone iscritte nel registro degli indagati nel procedimento aperto dalla procura di Roma sulla morte del giornalista Andrea Purgatori dopo una denuncia presentata dai familiari nei confronti dei due che operano in due cliniche della capitale l'accusa è di omicidio colposo intanto mentre i PM dovrebbero affidare la prossima settimana l'incarico per effettuare l'autopsia parallelamente gli inquirenti stanno acquisendo affidando l'attività ai carabinieri del NAS tutto il materiale comprese le cartelle cliniche dove Purgatori è stato in cura si tratta sia di strutture private che pubbliche la Repubblica vi è riconoscente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è rivolto così all'assemblea delle Federcasse l'associazione che riunisce le banche di credito cooperativo e le casse rurali e artigiane per la presenza capillare sul territorio e nelle aree interne del paese è significativo ha sottolineato il capo dello Stato sapere che i cittadini di 723 comuni hanno come unica presenza bancaria una banca cooperativa e che un terzo degli sportelli è collocato in comuni delle cosiddette aree interne si tratta di una funzione economica e sociale un impegno nel solco dell'applicazione delle norme della Costituzione il clima di luglio continua ad essere caratterizzato da fenomeni climatici estremi e a dipingere un'Italia piegata sia dal caldo estremo al centro e al sud e al nord est flagellata da piogge monsoniche con forti precipitazioni e chicchi di grandi negrossi come palle da tennis che hanno causato ingenti danni e feriti a Verona un uomo è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine mentre in provincia di Novara una donna è stata ferita gravemente da un albero caduto a Gorgonzola nel Milanese una tromba d'aria ha scoperchiato tetti e divelto piante il maltempo imperverserà al nord anche nel weekend al centro è invece previsto un calo delle temperature massime mentre il sud resterà nella morsa dell'anticiclone africano notte da incubo per Gianluigi Donnarumma il portiere della nazionale italiana e del Paris Saint Germain e la sua compagna Alessia Elefante sono stati aggrediti legati e derubati da quattro uomini che hanno fatto irruzione nella loro casa i ladri sarebbero scappati con un bottino di circa 500 mila euro i due fidanzati sarebbero poi andati in un albergo e quindi dopo la denuncia portati in ospedale la brigata per la repressione del banditismo della polizia giudiziaria parigina ha già aperto un'indagine su questa vicenda grazie a tutti